Oggi siamo a Pane e Pomodoro, non a caso perché parleremo di un concorso letterario che parte proprio da Bari, che si chiama Message in a Battle. Qui con me Camilla Pozzoni-Ranieri, bentrovata. Buongiorno a tutti. Allora, partiamo e raccontiamo di che si tratta. È un concorso letterario sotto forma di SMS. È un concorso nazionale, possiamo partecipare, potevamo partecipare in quanto la terza edizione ha avuto termine il 30 aprile, con un SMS sul tema del mare. Un concorso ad opera? Del Lions Club del distretto 108 AB a Puglia, sostenuto negli scorsi anni dai pasta governatori e altamente voluto dal governatore Liceabitritto Polignano. C'è anche un gruppo su Facebook, su Internet, insomma si può consultare un sito per capire un po' meglio. Sì, sì, sì. Allora, su Facebook il gruppo è Messaging in a Battle, quindi potete scrivervi tutti in modo tale che io vi possa comunicare attraverso una mail date di premiazioni, di avvenimenti, insomma delle manifestazioni, tutti ruotanti attorno a questo concorso. In special modo le notizie più precise riguardo il concorso nazionale, le scorse edizioni, i vincitori e i sostenitori le potete trovare su www.minab.it Ecco, noi siamo alla terza edizione, com'è nata quest'idea? È nata per caso proprio in Riva al Mare. L'idea di un componimento breve, utilizzando quella che è la tecnologia dei giovani, quello che è il modo di scrivere dei giovani, in 160 caratteri, dovevamo mettere tutte le nostre idee, le nostre emozioni su quello che era il tema dell'anno dell'edizione. La prima edizione, l'SMS, era sul disagio. Per la seconda edizione andremo in pubblicazione appunto il primo giugno quest'anno, era il sogno. La terza edizione, che si è conclusa appunto, come ho detto prima, il 30 aprile, era sul mare. Infatti noi siamo a pane e pomodoro, non a caso. Bene, il primo giugno ci sarà una serata dedicata appunto a Messaggine Battle. In realtà noi sappiamo già i vincitori, ma non ve li anticipiamo, perché dovete partecipare numerosi. Cosa accadrà il primo giugno? Il primo giugno ci sarà la notte di Messaggine Battle, a Toritto, perché dal club Lions di Toritto è partita questa idea, per così dire, innovativa, un concorso letterario, un po' in una forma strana per partecipare. Ci sarà la notte di Messaggine Battle, così l'abbiamo strutturata. Avremo un intervento particolare di allievi che presenteranno una performance di Ellen Keller, l'ispiratrice dei Lions. Continueremo con la premiazione della seconda edizione. Per finire, dei momenti musicali e artistici e dei momenti di degustazione di prodotti tipici del territorio locale. Il tutto con la famiglia dei Lions, del distretto 108 AB. Ma la cosa più importante, secondo me, è lo scopo. Allora, noi raccogliamo questi SMS in una pubblicazione. Questa pubblicazione noi l'abbiamo anche in libreria, la libreria La Terza sui suoi scaffali ha la prima edizione di Messaggine Battle. La seconda edizione, appunto, il primo giugno, potremo acquistarle tutti quanti. Il ricavato verrà devoluto alla scuola di addestramento Caniguida per i non vedenti in provincia di Milano. Ecco, e in quanti hanno partecipato quest'anno? Abbiamo avuto all'incirca un 400 SMS sul mare. Ragazzi, diciamo, dagli 11 ai 99 anni. Le categorie sono tre, suddivise appunto in base anche ai premi e alle menzioni che avremo. Dagli 11 ai 17 anni, diciamo, c'è stata la maggiore affluenza. Abbiamo avuto più di 200 messaggi. Bellissimi, io li ho letti tutti. Un esempio, un esempio. No, non lo posso dire. C'è questo riferimento, spesso il riferimento con il mare, con l'amore, con i viaggi, con le scoperte, con le situazioni della vita. E abbiamo scoperto anche dei casi di umanitari molto, molto belli. Comunque, il primo giugno vi diremo tutto. Vi aspettiamo. Grazie per essere stata con noi. Grazie a voi. Cara Catherine, la mia vita è cominciata quando ti ho conosciuto e credevo fosse finita quando non sono riuscito a salvarti. Credevo che il tuo ricordo ci avrebbe tenuti in vita tutti e due, ma mi sbagliavo. Una donna che si chiama Teresa mi ha dimostrato che se trovo il coraggio di aprire il mio cuore posso tornare ad amare, per quanto grande fosse il mio dolore. Affidersi mai un messaggio alle onde? No, non penso che fideri mai un messaggio alle onde, perché secondo me sarebbe il modo peggiore per far ricevere un messaggio. Non penso che mai nessuno lo riceverà. Beh, dal mare vorrei ricevere un messaggio, non mandarlo no, tanto so che andrebbe perso. Ricevere sì, è ricevere due cose. Uno, un sacco di soldi, tramite assegno, qualcosa che rimanga ben intatto nella bottiglia. E un altro invece è un messaggio, un messaggio che mi possa rassicurare nell'opera che stiamo facendo io e altre persone con me associate per la cura delle persone disabili, anziani e infanzia difficile. Un messaggio che mi possa dire andate avanti, non c'è, non vi fermerà nessuno. Mi piacerebbe, non so, avere un messaggio d'amore. Bello, da mio marito, sai, tipo, ti amo, perché sai, i mariti poi non lo dicono più dopo tanti anni. Sì, quello sì, mi piacerebbe, un messaggio d'amore. Scriverei soprattutto alle istituzioni di aiutare i ragazzi a trovare lavoro. Soprattutto. Cosa le piacerebbe invece trovare? Un contratto di lavoro serio, per me. Mi piacerebbe trovare scritto che ho vinto un biglietto per la lotteria, della lotteria, e mi piacerebbe scrivere al mio fidanzato che lo amo e farglielo riuscire a arrivare. Io dentro una bottiglia vorrei trovare un biglietto per New York, e immediato, cioè subito, partirei subito. Vorrei mettere dentro un messaggio, dentro una bottiglia, con un assegno a vuoto, quindi dovrei essere in grado di poterlo... vorrei che lo trovasse una persona che ha bisogno di quei soldi. Mi piacerebbe poter mettere nella bottiglia qualcosa che renda felice qualcuno. Fra mare e cielo è bello essere libero, ma c'è la terra che mi fa tornare diverso.